Oggi è mare Oggi è mare Oggi è mare Signora allora oggi mare Oggi è mare Oggi è nè covid Grazie per la visione! Don't change the answer! Don't change the covid! Don't change the answer! Don't change the covid! Don't change the answer! Don't change the covid! Poggi è bambino, poggi è bambino, grazie Poggi è bambino, poggi è bambino, poggi è bambino, grazie Poggi è bambino, poggi è bambino, grazie Niente, io ripeto, la domenica ho avuto fatto un'intervista dei giornalisti a Mondello, no? Arrivare al punto di fare dei giovenieri portachiavi in cui c'è scritto questa frase Ma dico io, ma di che cosa stiamo parlando? Mi hanno messo con quel signore Matteo E scendo pensata, Matteo, io non le fai più, ma dove, Barbara, ma dove? Ma dove, questa cosa non l'accetto? C'è niente, in che senso non c'è niente, signora? Non c'è go, non c'è niente, non c'è go, it's it Don c'è go, don c'è niente, don c'è niente, don c'è go, it's it Non c'è Covid-Dip Una buona giornata da Montello Una buona giornata da Montello